L'agricente è una squadra insidiosa sotto questo punto di vista perché comunque quando abbassano il quintetto tolgono dei punti di riferimento. Noi dobbiamo essere bravi ed essere pronti in questo e a togliere dei punti di riferimento a loro. Entrambe le squadre vogliono ottenere da questa partita un risultato di prestigio, un risultato che possa confermare una sorta di leadership siciliana. Speriamo che vinca il miglior. Come ogni anno noi naturalmente. Una partita difficile perché Coach Cianni è una volpe. Perché storicamente qua abbiamo sempre vinto, la statistica non è un'opinione. Forza Trapani sempre, oggi è una partita importantissima. Senza dubbio la fortitudine, perché siamo più forti. Da due o tre anni perdiamo in casa con l'agricente e speriamo che questa sia la volta buona che vinceremo. Senza dubbio la forte a favorable con l'agricchia. Senza dubbio la fortuna è una partita che risPette da contarna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché perdere fa parte del gioco. Un po' in ritardo ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo conquistato questo derby in casa. Adesso siamo terzi. Non ci pensiamo. Cerchiamo di non soffrire di vertigini. Vediamo come va. È ovvio che le Final 8 sono vicine. Per cui magari un pensierino ce lo facciamo.